Cominciamo allora dalla riete. I punti di forza di questa giornata, per quanto vi riguarda, saranno la simpatia e il carisma che riuscirete comunque ad avere sul prossimo. Insomma, la capacità di seduzione sarà la vostra arma migliore. Toro, sul piano professionale le cose non vanno come vorreste, soprattutto se avete un'attività autonoma e qualche momento di sconforto potrebbe assalirvi. Tuttavia, cercate di non perdere la fiducia. La situazione muterà presto. Gevelli, nel vostro cielo brillano meravigliose stelle che promettono di darvi una mano ad alleggerire alcune tensioni nei rapporti con gli altri, compreso quello con il partner. Fascino e simpatia comunque non vi mancheranno in questi giorni. Cancro, sarete intuitivi come non mai, quasi preveggenti. Saprete leggere nel pensiero di chi vi sta accanto. Niente vi sfuggirà degli intenti e degli stati d'animo delle persone che avranno a che fare con voi. Leone, se le stelle si danno battaglia e in qualche modo coinvolgono il vostro stato d'animo, non è il caso di drammatizzare o di lamentarsi dell'andamento generale della vostra vita. Tenete soprattutto sotto controllo la gelosia e la possessività. Vergine, sarete capaci di sorprendere chi vi conosce con fantasiose e geniali scelte di vita. Lucidità mentale e concentrazione fanno di questo sabato un giorno perfetto per sottoporvi a un esame, una prova o un colloquio importante. Bilancia, è il momento ideale per occuparvi del vostro fisico e del vostro aspetto, ma anche per allontanare attempati schemi di pensiero e concetti ormai sovrastati per far spazio a cambiamenti innovativi e necessari. Scorpione, giornata confusa, sarete sepolti da una serie di impegni che vi assedieranno da tutte le parti, lasciandovi solo il tempo per respirare. Anche in campo sentimentale potrà presentarsi una breve e piccola crisi. Sagittario, concedetevi un viaggio, che sia di lavoro o di svago, poco importa. Se vi sentite animati dal desiderio di esplorare mondi nuovi, non fermatevi di fronte ai ricatti affettivi, ma secondate le vostre necessità. Capricorno, sul lavoro sfruttate i doni delle stelle, quali intuito, concentrazione, amore per le cose belle e armoniose che fanno di voi persone preparate e persuasive. Cercate invece di non prendervi sempre tutti gli oneri. Acquario, si profila una giornata intensa per le relazioni che sapranno essere appassionate. Se vi legherete a persone di altre città, non vi costerà nessuna fatica raggiungerle. Pesci, giornata ideale per staccare la spina e riordinare le idee. Con le stelle dalla vostra parte, consideratevi protetti da problemi e nemici nascosti. Contate inoltre su una buona salute e su un valido aiuto per superare le prove della vita. Grazie. 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 Grazie.